Faccia così, non è che vengo qua a prenderla in giro, io capisco che è una situazione un po'... Ma in fondo perché si deve lamentare tutto? Perché si sta lamentando? C'ha tutto. Moquette di erba, un po' d'aria condizionale, c'ha tutto. Noi siamo a... non faccia così, la pre... no! Ma non faccia così, le prendo un avvocato io, perché il suo ha visto come la ridotta. Venga in Italia con me, venga. Cosa fa? Cosa fa? Ma... ma la smetta! Ma co... ma la smetta! Non è questo un modo civile di comportarsi. Allora devo arguire che lei è una scimmia, una scimmia. Guardi che... guardi che siamo i carabinieri qui, degli portoghese, che sono peggio dei nostri portoghese. Sono quelli che non... si ha sentito. Dunque, se lei viene in Italia, le ostiche niente, se viene a casa mia, sa cosa le tira? I dei mattoni così che non la tira. Allora... la smetta, per favore, la... Eh? E di nuovo venissimi! Di nuovo a me, allo so... Benito! Venga, 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 venga. Venga un attimo, no, e perché deve fare sempre così tutte le donne? Allora mi faccio a via! Allora mi faccio a via! Ma non è buccata che non è!